Signore e signori buonasera e bentrovati per la quarta puntata di questo Hospital Show seconda edizione. Ieri si era andata in onda la quarta puntata di Hospital Show. La puntata è iniziata con l'artista e ospite d'onore Cinzia Gargano che ha incantato cantando la sua Ti amo il meno possibile prima di sedersi in giuria. Anche per questa quarta puntata grande spettacolo tra le bravissime bimbe e il loro numero di flamenco fino ad arrivare una strepitosa Lady Gaga interpretata dalla 26enne Elena Conforto che ha scelto di cantare la celebre canzone della cantante di origine italiana Million Reason. Ma tante le gag e passaggi esilaranti che hanno intrattenuto il grande pubblico presente studio. Special guest della puntata anche Calandra e Calandra andati in scena con la loro Tiri Chitolla accompagnati da simpatico e un unico corpo di ballo presente anche nel videoclip del brano. La puntata si conclude con la performance di Pietro al ritratto su Vincenzo Caradonna realizzata d'opera d'arte. Il finale della puntata arriva puntuale con i vincitori al secondo posto. La Sela Imitana che ha interpretato Lady Gaga, primo posto invece ex-equo per l'alcamese Martina Grillo di 18 anni che con la sua voce chitarra aveva impressionato la giuria con Scello, la canzone della colonna sonora del film A Star Is Born che ha vinto l'Oscar. Altro primo posto per il 21enne Marco Posatari di Balestrata. I vincitori così come ogni puntata andranno dritti alla semifinale del Talent. Appuntamento dunque a lunedì prossimo 11 novembre alle 20.45 su Alpo 1 per un'altra scoppiettante e esilarante puntata di Ospita Show. Al primo posto uno che studia ad anni alterni.